insomma paola noi noi è una vita che vediamo a prato siamo di prato la nostra città è prato e io è qui che voglio trovare la soluzione ai nostri problemi fermi tutti noi stiamo costruendo non una nuova banca ma una banca nuova vicina a tutti solida trasparente e responsabile una banca locale in un mondo global capace di riconoscere i meriti delle vostre idee e dei vostri sogni ma perché state tutti fermi mi scusi io avrei delle domande a farle può essere più chiaro che novità è questa possiamo uscire da qui finalmente avrete una risposta a tutte le vostre domande venite con me grazie a tutti